In questo video torniamo a parlare di sicurezza e lo facciamo con due videocamere di sorveglianza marchiate Reolink. Reolink è un brand davvero molto conosciuto, due prodotti di estrema qualità, videocamere a 4k riprese a 180 gradi, 360 gradi, entrambe possono essere collegate all'aperto e una di loro può essere anche utilizzata tramite pannellino solare che va ad alimentarla. Insomma due prodotti davvero top vi dicevo ma anche molto molto completi. Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, benvenuti o bentrovati qui sul mio canale YouTube. Siamo proprio nel pieno delle offerte del Black Friday e perché non parlarvi di due prodotti dedicati alla videosorveglianza marchiati Reolink. Reolink rappresenta sempre qualità e produce appunto dispositivi di altrettanta estrema qualità e lo vedremo proprio con quelli di oggi. Due videocamere di sorveglianza dall'estrema qualità di ripresa 4k è possibile registrare a 180 gradi, 360 gradi anche con movimento e alimentare appunto i dispositivi se non altro uno di loro con pannellini solari. Insomma Reolink con questi due prodotti ci dà accesso comunque sia a tanti altri prodotti che potrete comunque trovare sul loro sito web. Ma senza dilungarmi troppo vi dico che trovate il link qui sotto in descrizione per poter approfondire, per poter approfittare anche degli sconti ma li trovate anche sul mio canale Telegram delle offerte, cercate Jutec su Telegram oppure partite sempre dalla descrizione perché trovate il link per poterlo raggiungere. Ecco lì soprattutto in questi periodi di super sconti che dureranno fino ai primi di dicembre vi segnalo tantissimi prodotti anche codici sconto che vanno ad arricchire gli ulteriori sconti che si trovano già sui prodotti insomma uno strumento per voi e per farvi risparmiare valutatelo. Detto questo andiamo a vedere le nostre videocamere di sorveglianza. Abbiamo due telecamere particolari e un pannellino solare per alimentare una di loro due. Vi faccio vedere il primo modello Argus 4 Pro vedete come è fatta ma andiamo ad aprire ovviamente e poi abbiamo vedete la track mix wifi e qui abbiamo il piccolo pannellino solare e allora sono andato ad aprire il pannellino solare abbiamo questa scatola con tutti quanti i manualetti addirittura abbiamo anche l'adesivo per andare a tassellare in maniera corretta il nostro pannellino senza andare a fare buchi a vanvera. Vado un attimo a richiuderla. Guardate confezione comunque molto molto ben curata da parte di Reolink. Questo è il nostro pannellino realizzato in plastica molto bello devo dire. Cavo anche molto molto lungo USB di tipo C che va poi ad alimentare il nostro prodotto. Abbiamo anche qui una filettatura da un quarto per poterlo andare a collegare su questo supporto che si trova all'interno della nostra confezione. Supporto in metallo guardate si va a posizionare in questa maniera poi si va a chiudere così da farlo stare ben saldo. Abbiamo qui tutti quanti gli adattatori i tasselli. Abbiamo anche un convertitore da USB di tipo C a micro USB con protezione quindi davvero davvero top perché questo perché chiaramente il pannellino può essere utilizzato anche per altri dispositivi così come una cinghietta per evitare che magari vada a cadere. Allora andiamo a guardare prima la Argus 4 Pro. Due obiettivi sensore ECMOS da 1 su 1,8 di pollice risoluzione 4k ultra HD 15 fps e abbiamo una focale fissa con f.4 mm bluetooth, wifi 6, abbiamo i sensori di luce diurna, i sensori di luce notturna ma anche la possibilità di andare a rilevare il movimento. Molto bella come realizzata, vite da un quarto per poterla andare ad attaccare al muro, al supporto che è in dotazione come anche l'altra camera che intravedete qui lateralmente. Abbiamo lo sportellino per la micro SD ben protetta perché lei è resistente alla pioggia con certificazione P66 così come abbiamo anche gli illuminatori per poter effettuare quelle che sono delle riprese a colori. Qui invece abbiamo il sensore PIR. Vi ho detto una telecamera davvero molto molto ben fatta, con questi due obiettivi possiamo avere la possibilità di riprese a 180 gradi ma adesso a breve la andiamo ad accendere e vediamo nell'applicazione tutto quello che permette di fare insieme a quest'altro modello. Di questo esistono diversi modelli, pensate anche quello con LTE quindi potrete andare ad inserire quella che è una sim ed effettuare riprese da remoto senza dovervi necessariamente collegare al wifi. Molto molto pesante, realizzata in metallo interamente, queste sono parti in plastica ma molto molto resistenti. Abbiamo due antennine, qui il supporto e questa vi permette di andare ad effettuare delle riprese a 360 gradi e siamo sempre nell'ordine del 4K. Per quanto riguarda invece il sensore, questa volta abbiamo un sensore da un terzo di pollice più un sensore CMOS da 1 su 2.8 pollici. Abbiamo una lente da 2,8 mm f1.6 e un'altra da 8 mm f1.6. Come vi dicevo abbiamo una visione di campo orizzontale tra 104 gradi e 38 gradi e una visione verticale tra 60 gradi e 21 gradi. Ovviamente poi lei può andare a ruotare e coprire tutto quanto come vi dicevo. Risoluzione anche qui 4K, 3840 x 2160 a 20 fps e anche lei ha una visione notturna, chiaramente fino a 30 metri, grazie proprio a quelli che sono gli illuminatori e anche lei ha i suoi sensori di movimento. Dietro abbiamo lo speaker ma stessa cosa anche per l'altra perché comunque sia è supportato l'audio bidirezionale. Di conseguenza potremo parlare ma allo stesso tempo anche farci ascoltare da chi ecco è inquadrato in quel momento dalla camera. Chiaramente abbiamo la possibilità di andare ad impostare quelle che sono delle notifiche nel momento in cui va a rilevare il movimento. Loro sono in grado di distinguere il passaggio degli animali dal passaggio umano quindi non avrete sempre delle notifiche. Potrete chiaramente andare a impostare anche la distanza di rilevamento perché se ne mettete una troppo elevata anche da lontano come vi ho detto prima lei sarà capace, loro saranno capaci di andare a rilevare il movimento e allo stesso tempo grazie anche al sensore PIR quella che è la temperatura corporea di un oggetto, di una persona insomma che si sta muovendo. Adesso le vado a collegare all'applicazione e ve le faccio vedere più da vicino. E allora ragazzi intanto sono andato a configurare le due camere. Cosa molto molto bella è che loro supportano anche il wifi a 5 GHz e non soltanto quella 2 giga e 4. Questa è la schermata principale della mia applicazione, l'Argus 4 Pro, la vedete, fatta in questa maniera perché lei ha la ripresa a 180 gradi. Se la vado ad aprire ecco qui la mia schermata, posso andare a inclinare il telefono e guardate questa è l'inquadratura. Chiaramente non si coglie tanto bene dalle immagini che vedete. Qui c'è una sorta di stitching che poi va ad unire le immagini ma si vede come vado a muovere il dito in questa direzione. Guardate che si va a tagliare poi vengono messe insieme. Abbiamo la possibilità chiaramente di mettere in pausa il video, di rimetterlo in live, di andare a scattare una fotografia, di andare a registrare il video, di andare a aumentare la qualità dell'immagine in base anche alla nostra connessione e qui di attivare quello che è il bidirectional audio. Avete sentito? Ha arrivato la mia voce, l'avete ascoltata e viceversa come appunto vi dicevo. Qui possiamo anche andare a mettere a muto proprio l'audio che noi ascoltiamo. Cliccando qui sopra possiamo mettere questa inquadratura in base alle camere che abbiamo a disposizione ma anche in base alle inquadrature dei due obiettivi in modo particolare su questa. Torniamo un attimo indietro, questi sono gli stessi comandi chiaramente. Abbiamo detto che è una camera fissa che non va a muoversi. Possiamo andare a cliccare qui sopra per poter andare ad attivare anche quelli che sono gli allarmi sonori. Chiaramente è un allarme che serve per mettere in allerta i ladri, in un certo senso farli andar via perché abbiamo capito che loro praticamente sono in casa. Torniamo un attimo indietro perché le impostazioni sono le medesime. Vi faccio vedere un attimo la qualità invece dell'altra camera. Eccola qui. Guardate come la vediamo proprio per la sua capacità di avere anche dei movimenti in ptz. Eccoli qui. Vedete sto andando con il joypad. Guardate. Possiamo andare ad aumentare anche la velocità. Vedete? In maniera veloce. Possiamo ovviamente operare uno zoom. Mi vado a riprendere. E guardate. Davvero, davvero ben fatte. Abbiamo la possibilità anche di andare ad impostare dei preset su quella che è la posizione della camera. Se voglio scegliere che mi devo andare ad inquadrare una zona precisa di casa, ecco che posso scegliere quella come posizione predefinita e si va a rimettere lì anche dopo aver rilevato il movimento. Posso andare ad impostare anche dei punti di monitoraggio e tornare al joypad. Anche qui se vado a girare l'inquadratura dello smartphone, ecco che posso andare a vedere la visuale dei due obiettivi che poi mi andranno a creare un'unica immagine in fase di scaricamento. Se clicco qui sopra, gli stessi comandi come l'avete visti prima, eccetto il movimento in PTZ. Se torno un attimo indietro, magari anzi riandiamo nelle impostazioni, vedrete la stessa cosa per le due, il wifi ben collegato, la possibilità di andare a settare il mio display. Vedete? Rotazione verticale, rotazione orizzontale in questo caso, perché dipende da come l'andate a posizionare sul muro. Lo streaming ci dà tutte quante le caratteristiche. L'anti sfarfallio, 50 Hz in Italia, giorno e notte automatico, cioè passerà l'inquadratura da notturna a diurna, quindi in bianco e nero. Possiamo andare ad aumentare anche la luminosità di quello che è lo schermo, la ripresa, sfrutterà anche quelli che sono gli illuminatori, quindi quando rileverà che è la notte si andranno ad accendere gli illuminatori e poi funzioneranno. Questa è la luminosità invece riferita allo schermo. Modalità giorno e notte che possiamo impostare come auto oppure averla sempre in bianco e nero o sempre a colori. Chiaramente di notte, se vogliamo la visuale a colori, si andranno ad accendere i led. Non so fino a che punto vi convenga, perché è chiaro che poi mettono in allarme i ladri e quindi magari gli fate anche capire dove si trova la telecamera. Qui possiamo impostare il nome della telecamera, impostare la filigrana. Abbiamo, vedete, la gestione dei led automatica oppure quella dei faretti. Guardate, possiamo impostare proprio la luminosità, la potenza dei nostri faretti, la modalità smart notturna. Vedete il rilevamento, possiamo andare a scegliere cosa deve rilevare, cosa non deve rilevare, quindi io posso andare a togliere animali, veicoli e lasciare solo persone, eccetera. Insomma, vedete, abbiamo ampia manovra. Anche la modalità timer per andare ad attivare e disattivare appunto i faretti e le luci led solo in determinati orari. Qui abbiamo la modalità di rilevamento dove possiamo andare a scegliere le zone di rilevamento, possiamo tracciare proprio sull'inquadratura, così come vedete la sensibilità, il ritardo dell'allarme. Possiamo far suonare la sirena subito appena rileva un movimento oppure attendere un attimo. Possiamo scegliere quelle che sono le dimensioni dell'oggetto, quindi se sono più piccole di quelle dimensioni ecco che lui non va a rilevare. Abilitare anche l'autotracking, quindi quando vede una persona, per esempio questa, la va a rilevare e si muoverà seguendo proprio il movimento della stessa persona. Poi chiaramente abbiamo tutta quanta la possibilità di andare a scegliere di poterci collegare a lei anche tramite FTP, non soltanto attraverso la micro SD che è collegata qui all'interno, quindi intendo staccarla, toglierla, metterla nel computer e vedere le immagini. No, anche il collegamento FTP. Il suono dell'allarme, chiaramente ve l'ho fatto sentire prima, e così vi abbiamo, vedete anche la possibilità di registrare in timelapse e la modalità avanzata per poter andare a ripristinare il dispositivo. Poi diciamo che ci sono tutte quante le classiche funzionalità delle varie telecamere. Andiamo un attimo su quest'altra, entriamo nelle impostazioni per far vedere che tutto sommato è molto simile. Guardate, qui abbiamo anche la possibilità di impostare il PIR, la telecamera notifica tramite avvisi push, quelli che sono gli allarmi, facendo riferimento non solo al movimento ma anche alla temperatura corporea. Vedete anche qui la modalità di rilevamento, è simile a quella che abbiamo visto in precedenza, attivare o disattivare la modalità registrazione, quindi non soltanto la notifica e insomma il tutto funziona allo stesso modo. Mi piacciono molto per il fatto che questa ha la possibilità di riprendere a 180 gradi con una sorta di stitching che poi va ad unire tutto quanto. Questo è il sensore PIR, molto molto bella e anche questa davvero ben fatta, pesante, resistente, collegabile anche tramite cavo Ethernet. Non so se si riesce a cogliere bene dalle immagini, che può essere anche chiuso da questo tappo qualora non utilizzassimo la porta, ma comunque protetto in maniera tale da farlo funzionare anche in esterna con cavo e quindi avere una connessione chiaramente più stabile. Perfetto amici, due prodotti davvero top per qualità costruttiva ma soprattutto per funzionalità. Mi è piaciuto molto il fatto che il rilevamento del movimento sia settabile, nel senso possiamo scegliere se andare a rilevare persone, animali ma anche oggetti come vettura, escluderle quindi e stare sicuramente tranquilli così da non ricevere delle notifiche magari inutili. Questo non è da poco perché non su tutti i sistemi sono presenti queste funzionalità. Mi è piaciuto il fatto che possiamo organizzare la ricezione delle notifiche, la qualità video è superlativa, l'avete visto a 4k, rispondono molto bene anche in notturna con scarsa luminosità, entra appunto in funzione o il faretto qualora volessimo avere delle immagini a colori oppure il bianco e nero. Interessante anche il fatto che si possano utilizzare pannellini solari, per l'altro modello mi piace il fatto che Reolink metta a disposizione anche un ulteriore modello che può essere utilizzato in LTE, quindi con una sim, così da evitare problemi di connessione in qualsiasi circostanza. Ovviamente questa è una garanzia perché qualora aveste un generatore suppletivo per alimentarla, qualora i ladri staccassero proprio l'alimentazione dall'abitazione, oppure anche questa trovaste il modo per poterla collegare tramite pannelli solari perché comunque sia si può fare, oppure tramite ethernet, insomma ecco avrete un dispositivo sempre a disposizione che non vi dà problemi, governabile dall'app che tra altro è molto molto completa. Detto questo spero davvero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ditemi la vostra, vi ricordo che potrete approfittare degli sconti del Black Friday partendo dai link qui sotto in descrizione ma anche sul mio canale Telegram delle offerte. Per tutto il resto ci becchiamo invece sul mio profilo Instagram, ciao e a un prossimo video! Ciao!